Buongiorno, mi chiamo Luca Damiano e sono CEO fondatore di InEquip. InEquip è un'applicazione smartphone pensata per la condivisione di casi clinici nel mondo, la connessione tra medici e la loro crescita professionale. Nasce dall'idea di poter connettere medici all'interno di strutture ospedaliere e poter facilitare la soluzione di casi attraverso il loro dibattito e la connessione.